Bentornati ragazzi sono Sater52 e oggi continueremo la nostra avventura in quel di Raccoon City su Resident Evil 2 Remake Nello scorso episodio abbiamo esplorato il nest e stiamo arrivati a riempire il contenitore vuoto con l'erbicida e in questo episodio senza perdere altro tempo dobbiamo arrivare al congelatore perché dobbiamo congelare l'erbicida così potrà funzionare vi ricordate che nello scorso episodio quando siamo scesi qui di sotto stavamo per andare in una stanza e sono arrivati due leaker davanti a noi e abbiamo deciso di fare dietrofronto come qualsiasi altra persona normale ecco ora siamo costretti ad andare in quella porta perché è l'unica porta dove possiamo andare quindi facendo piano piano dobbiamo evitare i leaker questo qua che sta qui è evitabile facilmente l'altro che secondo me sarà sicuramente nel corridoio di destra è un po' più difficile perché significa che dobbiamo fare ancora più attenzione perché siamo vicini alla porta ma non possiamo correre assolutamente ancora mi viene da dire che meno male che ho atterrato tutti... anzi no ho atterrato ucciso tutti i zombie che si trovavano in questa stanza perché se no sarebbe stato un inferno dover tornare qui e anche la prima volta sarebbe stato un inferno dopo che sono arrivati due leaker comunque mi sta seguendo lo sento camminare dietro di me quindi alla fine ho capito che i leaker se ci passate a fianco vi sentono ma non del tutto se continuate a camminare lentamente però vi iniziano a camminare dietro e non si staccano mai quindi è più difficile secondo me toglierseli di mezzo quindi significa la prima volta che sono morto quella che poi mi ha fatto avere paura di morire nel gioco perché se no avrei dovuto rifare tutto da capo e mi ha fatto arrivare praticamente a più di 20 salvataggi ormai avrei potuto superarlo anzi in realtà l'avevo superato come stavo facendo cioè passandogli... girandogli proprio attorno ma ho iniziato a correre per paura che mi avesse sentito invece no non mi aveva sentito avrei dovuto continuare a camminare lentamente e così forse sarei riuscito ad arrivare dove dovevo arrivare però ora che ci penso forse è stato meglio così perché se... va bene questo è uno zombie che mi cade davanti è tutto normale siamo in resident evil dicevo è normale anzi no è meglio che alla fine sono stato messo in questo modo perché ho perso solamente un sacco di tempo nel dover ritornare in zone che già avevo imparato a conoscere per riprendere alcuni oggetti che appunto avevo lasciato indietro invece di magari morire in una zona nuova e quindi tornare ad un salvataggio ancora molto più indietro di quello di quando sono morto e dover rifare tutto in una zona nuova che non mi ricordavo bene dove stavano gli oggetti e quindi avrei dovuto giocare ancora meglio facendo attenzione e ovviamente il gioco non vuole ridarmi il coltello che mi ha fatto usare per uccidere questo zombie del cavolo non solo mi ha fatto sprecare il coltello e il gioco perché non me l'ha ridato ma anche la bomba strutturante che non è da sottovalutare no? vabbè ormai è andata così il trofeo lo potevo buttare ok siamo arrivati alla stanza dove dovevamo arrivare ma non è il congelatore perché non mi sembra essere freddo questo posto è pieno di zombie ancora ovviamente perché sì devono per forza stare ovunque ma che ci faceva questa in una stanza del genere quando è stata infettata e quindi se è stata infettata perché è da sola poi oh crit va bene così allora dobbiamo arrivare in realtà non so dove sta il congelatore ora che ci penso cioè io sono andato in questa stanza pensando che stesse qui ma in realtà vabbè leggiamo sono tutti morti sono diventati delle piante continuano a tornare ancora e ancora bruciamoli tutti bruciamoli finché i loro corpi non diventano cenere non c'è altro modo sì beh questo ragionamento mi è arrivato un po' presto per fortuna gioco a pokemon quindi è stato facile il collegamento no? fuoco super efficace su erba e quindi lancia fiamme però adesso mi ha detto che possono essere uccisi anche se non so quanto devo prendere per vere queste parole ah ci siamo ricollegati alla safe room di prima ok va benissimo allora da qui possiamo anzi torniamo indietro perché vi ricordate che la primissima volta che siamo arrivati qui al nest dovevamo accendere la luce in una stanza quindi adesso vado in quella stanza ad accenderla ma taglio perché è troppo lunga la strada era priva di pericoli quindi sono arrivato qua abbastanza facilmente muff c'è scritto mi sono già guardato questo oggetto quindi so come funziona dobbiamo semplicemente adesso spostare no ho sbagliato in realtà li avevo già aggiustati tutti quanti ok infatti muff sta messo bene allora pensavo che si sarebbero tolti una volta appunto smesso di maneggiare con questa cosa invece no allora appena l'ho preso in realtà li ho aggiustati tutti quanti non so se ve l'ho fatto vedere ma penso di nuovo perché ci ho messo un minutino buono quindi sicuro non ve l'ho fatto vedere ma alla fine niente di che comunque semplicemente dovevate girare due tasti ah mister raccoon là ok è il borsello pienissimo sapete che non pensavo di arrivarci ad avere il borsello pieno vabbè leggiamo dio santo sangue dappertutto cosa diavolo sta succedendo sono morti sono tutti morti sono stati quelli gli uomini l'us le forze speciali del quartier generale ma perché non dovevano proteggerci ci sono cervelle e sangue dappertutto ditemi che questo è un incubo dio santo perché non dicevano tutti che sono un genio un genio come me non può morire in un posto come questo ho sempre ottenuto ottimi risultati mi hanno fregato ah ma sarò io a fregare l'oro vincerò il nobel sono un eroe un genio un dio non morirò non alla fine credo proprio che sia morto ma torniamo nel anzi in realtà andiamo proprio avanti faccio un taglio enorme ed eccoci di nuovo nella stanza dei leaguer fantastici stavo dicendo una cosa in realtà nell'altra stanza quando ho fatto il taglio cioè non pensavo di arrivare ad avere il borsello pieno perché nelle fogne avevo lasciato un armadietto e quindi ero sicuro al 100% che in quell'armadietto lasciato indietro c'era l'ultimo borsello e quindi non pensavo di arrivarci ad averlo al massimo ma invece è andata bene quindi ora sono curioso di sapere cosa c'è in quell'armadio che ho lasciato indietro anche se a sto punto non è importantissimo a meno che non era un oggetto da aggiungere in una qualche arma ma non credo proprio perché non avrebbe senso metterlo in un armadietto non c'è mai stata un'aggiunta ad un'arma in un armadietto però allora adesso prima di andare nella porta che si trova avanti a sinistra direi di andare prima a destra perché secondo me è più secondaria quella che sta a destra il problema è il leaker perché stava proprio sul muro per fortuna al lato opposto della porta quindi possiamo passare vicino al muro dove sta la porta e entrare subito se il leaker ci sente quindi almeno su questo punto di vista sto tranquillo però il leaker è qua e purtroppo ci stiamo passando troppo vicino per stare tranquilli però è andata bene tutte queste volte quindi perché dovrebbe andare male proprio adesso comunque si non è consigliato passare così vicino ai leaker quindi diciamo che quando sono morto ci andava bene perché ora sono passato vicino al muro opposto dove stava il leaker e comunque mi ha sentito ed è sceso dal suo muro per arrivare vicino a me quindi alla fine mi ha sentito anche se non bene quanto sente normalmente perché appunto stavo camminando piano comunque è una stanza pressoché inutile anche se carburante per il rilancio fiamme più un coltello sono due cose che non servono per forza ma servono quindi va bene così adesso il leaker si è spostato qui ovviamente si è messo su un corridoio inutile no? no ovviamente no si è messo in un altro corridoio preciso ora quindi scende di nuovo eh si che scende di nuovo ma io vado piano piano ancora voglio fidarmi del fatto che questa cosa funziona quindi anche se mi segue continuate ad andare dove sta l'altro? non è molto sicura non è molto sicura questa cosa spero che non sta a sinistra perché se sta a sinistra vabbè spero di no e basta sembra non esserci per fortuna no va bene allora siamo arrivati però piano piano ci entriamo ok adesso siamo al sicuro beh in realtà non so cosa c'è dentro questa stanza quindi siamo mediamente al sicuro ok così va bene comunque appena visto da questa finestra che siamo arrivati nella stanza del congelatore ah basse temperature sì vabbè congelatore basse temperature fa freddo va bene ok fa freddo eh questa si alza dai cioè è palese ah no aspettate ho selezionato le bombe no equipaggio e il coltello ok meno male che me ne sono accorto perché sennò avrei lanciato una bomba eh va bene si è alzata come intuibile oh però però non è caduta vabbè no no facciamo con la pistola alla fine comunque la cosa che ho detto nello scorso episodio di sparare a tutto quello che si muoveva cioè no sparare vabbè usare il lanciafiamme per tutto quello che si muoveva non l'ho fatto in realtà forse sì è meglio così ci conserviamo il carburante per delle boss fight alla fine penso che il lanciafiamme è un po' di danno lo faccia oh però se colpissi almeno un proiettile eh sarebbe meglio no vabbè ce l'abbiamo fatta il coltello ora me lo dovresti ridare perché non è rarotto ok direi di no ma non è possibile cioè l'ho detto prima l'ho detto prima e invece poi l'ho fatto lo stesso però come potevo immaginare che dopo aver perso il coltello beh no in realtà lo potevo immaginare però volevo farlo subito almeno adesso sappiamo che è sicuramente morta e non si rialzerà più almeno credo però visto che è una bomba deve aver fatto il danno no mi tenta rick mendoza oggetto che sta combinando sai che ha fatto quello stronzo di cartwing a quel pezzo di merda serve una camomilla beh è lui il capo per ora ehi hai visto il mio trofeo per caso il codice è nascosto sulla base se lo trovi dimmelo mi tenta mi tenta byron cartwright quindi prima ho letto male oggetto impegnato eh e così proprio non ce l'hai fatta a venire e va bene non preoccuparti dell'ispezione della sera te lo do io qualcosa di semplice da fare calcola il budget stimato per l'anno successivo al prossimo e fallo entro stanotte mi tenta rick mendoza oggetto sei vivo siamo sotto attacco ci sono un sacco di morti l'area est è isolata non possiamo attivare il ponte con i nostri braccialetti ma dove cazzo si è nascosto quello stronzo di cartwright mi tenta rick mendoza oggetto rispondi la pianta 43 fuori controllo la serra è un inferno dobbiamo mandarci qualcuno prima che sia troppo tardi wayne come fermiamo questo macello devi aiutarci rispondi mi tenta rick mendoza oggetto nessuno ti ricordi di susi la cheerleader che bella ragazza piaceva ad entrambi ma ovviamente non era interessata a due nerd devo ancora restituirti i fumetti e i giochi che mi avevi prestato credo che dovrai aspettare ancora un po' l'ultimo messaggio era proprio fuori contesto però in carino direi che dovrà aspettare per il resto vabbè non è la sua vita perché ormai è morto quindi non c'è il resto della sua vita dovrà aspettare per sempre e basta saranno morti tutti e due immagino wayne lì l'abbiamo sparato noi era vivo tra molte virgolette per quanto uno zombie possa essere vivo però si chiama zombie perché è un morto che cammina quindi in realtà non era vivo va bene lasciamo perdere polvere da sparo questo è sempre utile visto che mi servono i colpi tra l'altro siamo messi abbastanza bene non benissimo i colpi di pistola ad esempio mancano ancora però almeno col pompa visto che non spariamo da tanto da quando stavamo nelle fogne praticamente di pompa almeno ne sono arrivato ad avere un bel po' di colpi e non mi dispiace questa cosa contenitore erbicida adesso è anche raffreddato quindi direi che oltre a dover tornare indietro non abbiamo nulla da fare e quindi un bel taglio e torniamo direttamente dove si trova la pianta 43 la strada ancora una volta era quasi priva di pericoli perché sono salito per le scale quindi mi sono ricollegato alla safe room e su quelle scale c'erano due piante e basta ma niente di che ho usato il lanciafiamme ed è andato tutto bene direi senza perderci in troppe chiacchiere di andare subito a recuperare il chip così possiamo tornare indietro e attivare l'altro pont che ci collega ad ovest beh in realtà no visto che tra l'altro queste piante ancora vogliono rialzarsi tecnicamente sappiamo dal biglietto che abbiamo letto che possono diventare cenere quindi alla fine le possiamo uccidere però non so per quante volte le dobbiamo atterrare quindi non ci interessa è semplicemente ce ne andiamo abbiamo adesso il braccialetto di livello 3 quindi dobbiamo semplicemente correre sta arrivando mister x beh più più bello di così questo gioco come potrebbe essere quindi direi che senza fermarci senza guardare indietro ce ne andiamo indietro sì va bene dovevamo leggere ah aspettate però qua ci stanno le piante va bene lancia fiamme in mano a me non dispiace però deve cadere a terra perché se no mi prende questa mi prende già lo so mi prende va bene però sta andando a fuoco quindi no il coltello dovevo usare lo stesso ah potevo pure recuperarlo vabbè ormai è andata non fa niente dai tanto non ci serve siamo verso la fine del gioco però c'era il il computer da leggere aspettate mittente William Birkin oggetto priorità alta sicurezza elevata da quando il nest è diventato un covo di spie tre solo lo scorso mese e altre quattro questo e sono solo quelle che abbiamo individuato migliori la sicurezza cartwright o vuole fare la fine del suo predecessore inoltre da oggi limiterò l'accesso all'area ovest ignori qualsiasi richiesta di informazioni su gita al quartier generale quei colletti bianchi non danno comunque alcun contributo a questo progetto mittente non repli messaggio automatico oggetto attenzione accesso non autorizzato rilevata depressione ah ok vabbè quello che abbiamo fatto noi adesso quindi è inutile leggerlo mi fa ridere pensare che Leon tranquillamente con Mr. X alle calcagno una pianta ribelle si mette là tranquillo a leggere sul computer le notifiche comunque visto che dobbiamo andare sull'altro ponte e abbiamo finito quest'area direi che possiamo finire qui l'episodio quindi ragazzi vi saluto vi ricordo di iscrivervi al canale se siete interessati ai miei contenuti lasciando un like se il video vi è piaciuto di commentare condividere con tutti i vostri miei se volete in descrizione c'è il link per il mio instagram venite a seguirmi e noi ci sentiamo al prossimo video vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo di iscrivervi al canale vi ricordo di iscrivervi al canale